Saranno ospitate nella palestra comunale di Cortina fino al cessato allarme le 70 persone evacuate da un bed and breakfast a passo tre croci sopra Cortina a causa del rischio caduta massi dovuto ad una frana provocata dal maltempo. Il punto della situazione con l'assessore alla protezione civile del Veneto Gian Paolo Bottacine. L'evento medio che sta colpendo il Veneto da alcune ore sono state registrate alcune criticità, in modo particolare nelle zone montane e piede montane che sono state le più colpite in queste ore. A Cortina d'Ampezzo è stato evacuato l'hotel Tre Croci che si trova esattamente sul passo Tre Croci lungo la strada che collega Cortina a Misurina che è stata chiusa a scopo precauzionale, in quanto questa mattina è stato investito marginalmente da una colata detritica, quindi a scopo precauzionale si è ritenuto di evacuare le 130 persone che vi alloggiavano. Sempre a Cortina c'è stato un problema nella località Acquabona che però non ha creato problemi se non marginali alla viabilità principale. Ci sono alcune persone isolate allozzo di Cadore lungo la strada che porta a Pian dei Boi, ma fortunatamente stanno bene. Un'interruzione stradale anche a Negrar nel Veronese, altra area particolarmente colpita e una serie di interventi minori che oltre alle province di Belluno e Verona sono in corso nelle province di Padova e Treviso da parte dei Vigili del Fuoco. Le previsioni meteo prevedono che continuerà a piovere anche nelle prossime ore, con attenuazione a partire dal pomeriggio di domani e allo stato attuale le precipitazioni maggiori le abbiamo rilevate a Borca di Cadore con 85 mm e a Feltre con 80 mm circa. Quindi l'attenzione, visto che continua a piovere, rimarrà alta proprio per garantire al massimo l'efficacia di eventuali interventi che si rendessero necessari. Grazie a tutti.